salve a tutti buongiorno a voi fratelli e sorelle benvenuti nel nuovo appuntamento di messaggi e profezie di oggi 25 gennaio 2019 oggi come sapete bene la conversione la ricorrenza la conversione di di san paolo apostolo ovvero saulo in ebraico bene iniziamo con l'unico messaggio che abbiamo trovato in giornata e riguarda una gente si chiama di nome valeria credo che sia di roma se non erro del 23 gennaio 2019 e dice questo state vivendo tempi difficilissimi ma pochi ne sono veramente consapevoli proprio come i tempi di gesù mangiavano bevevano si sposavano come nulla dovesse cambiare poi invece dovete fare i conti con ogni sorta di dolore oggi con voi sono io non vi lascerò fino a quando il padre me lo permetterà figlioli satana è arrabbiatissimo perché conosce bene che il suo tempo sta per finire tanto è vero se facciamo un escursus dei messaggi anche in passato se partiamo da leone tredicesimo dal papa che vide una visione in cui il maligno ebbe la possibilità il signor gli diede la possibilità di avere un determinato tempo fin quanto sarebbe scaduto avrebbe tentato la chiesa e tutto il mondo ovviamente e tanto è vero che il suo tempo sta per finire ecco perché è avvenenato e dice sono sempre pronta ad ogni vostro richiamo affidatemi i vostri figli e tutti i giovani che in questi tempi stanno sbarrendo la strada maestra avvicinatevi più spesso la mensa eucaristica altrimenti per i reti tant'è vero che una cosa importante sono i sacramenti tra cui la santa chiesa cattolica e dice amate chi vi fa del male perché satana sarà battuto proprio dal vero amore e affidarsi ovviamente a gesù e aiutate chi è debole nella prova e avrete la vostra ricompensa questo è un messaggio che abbiamo visto oggi come avete notato anche dalla miniatura abbiamo scritto una grande e mi pare una grande guerra se non erro spirituale e mondiale se non erro che cosa sta a significare questo che quello che stiamo vivendo attualmente come già leggete guerra è proprio una vera e propria guerra tra il bene e il male tra il signore gesù effettivamente e il maligno e questa è una guerra che poi si ripercuote purtroppo anche sulla nostra terra oltre quella spirituale poi ci sarà come le profezie prevedono una terza guerra mondiale una grande guerra non lo dice chi vi parla ovviamente ma lo dicono molte profezie ma questo si parte da da fatima dalla salette e anche prima tant'è vero che oggi andiamo a vedere alcuni messaggi che riguarda questa cosa oltre che la guerra anche il un castigo fondamentalmente e abbiamo visto in modo particolare due tre cosettine diciamo due tre messaggi importanti che più o meno il signore ha riconosciuto che riguarda proprio il mondo come guerra materiale vera e propria e anche la guerra spirituale all'interno anche della santa chiesa non solo all'interno di ognuno di noi ovviamente ma anche all'interno della della chiesa stessa e iniziamo con i primi messaggi e che riguarda per esempio chi beo che è riconosciuta parzialmente dal vescovo locale in africa e dice questo purificate i vostri cuori perché il tempo è vicino dobbiamo prepararci al ritorno di cristo ci sarà un ultimo giudizio ma ognuno riconoscerà la sua via senza possibilità di discussione ecco tanto è vero che prima del ritorno del signore ovviamente anche a me giugori la vergine maria aveva detto che sarebbe che lei è lì proprio per prepararci al ritorno del signore quindi come se ci fosse un secondo avvento ovviamente tutto ciò proprio per il ritorno di gesù e prima del ritorno di gesù ci saranno varie situazioni ad akita che sono riconosciute ovviamente dal vescovo locale come quella africana diciamo parzialmente quella in giappone invece sono riconosciute dice questo questo è negli anni settanta mi pare chi beo 1981 più o meno l'epoca di me giugori ad akita invece in giappone dice questo come ti ho detto se gli uomini non si pentiranno e non miglioreranno se stessi il padre infliggerà un terribile castigo su tutta l'umanità messaggio del 13 ottobre come fatima 1973 sarà un castigo più grande del diluvio tale che come se non se ne è mai visto prima il fuoco cadrà dal cielo e spazzere via una grande parte dell'umanità i buoni come i cattivi senza risparmiare né preti e né fedeli i sopravvissuti si troveranno così afflitti che invideranno i morti le solo armi che vi resteranno sono il santo rosario e il segno lasciato da mio figlio recitate ogni giorno le preghiede del santo rosario con il rosario pregate per il papa quindi per la chiesa stessa i vescovi e i preti e purtroppo dice questo l'opera del diavolo si è si inzionerà anche nella chiesa in una maniera tale che si vedranno cardinali opporsi ad altri cardinali vescovi contro vescovi questo è come messaggio di fatima i sacerdoti che mi verano saranno disprezzati ostacolati da loro confratelli tanto è vero che purtroppo questa cosa già si incomincia a denotare una cosa del genere e poi aggiunge pure praticamente che tutto ciò che è importante proprio la preghiera anche bruno cornacchiola alle tre fontane dice praticamente alcune cose e andiamo ad annotare 1988 è un riconoscimento implicito quello delle tre fontane ma al di là delle date questo dice quello che ho sognato non si avveri mai è troppo doloroso e spero che il signore non permetta che il paga che il papa neghi ogni verità di fede e si metta al posto di dio la frase è questa quello che ho sognato non si avveri mai ed è troppo doloroso e spero che il signore non permetta che il papa neghi ogni verità di fede e si metta al posto di dio anche questo dovrà accadere ovviamente quanto dolore ho provato nella notte mi si paririzzavano le gambe non potevo più muovermi per quel dolore provavo nel vedere la chiesa ridotto l'ammasso di rovine figli miei la salvezza non è riunire tutte le regioni per farne un ammasso di eresie e di errori tant'è vero che stiamo concludendo vedete il messaggio del signore come arriva puntuale si oggigiorno si conclude la settimana diciamo dell'unità dei cristiani ma l'unità dei cristiani non si fa come ecco dice la salvezza non è riunire tutte le regioni per farne un ammasso di eresie e di errori gli uomini devono vivere la chiesa e non la chiesa a vivere di loro non solo l'unica l'unità dei cristiani è fatta solamente all'interno della santa chiesa cattolica questa è la vera unità della chiesa e non solo chi è fuori dalla chiesa ripeto le altri regioni per salvarsi ovviamente poi solo dio sa come ma la cosa importante è l'ovile santo che è quella della santa chiesa cattolica tant'è vero dice gli uomini devono vivere la chiesa e non la chiesa a vivere di cristo per questo c'è una vivere di e non la chiesa a vivere di loro quindi gli uomini devono vivere la chiesa e non la chiesa a vivere di loro cioè si deve vivere quello che dice la chiesa gli uomini devono essere persuasi dalla verità la dottrina della chiesa è di cristo non cambiate la dottrina ma cambiate i vostri cuori e vive e vivere essa dottrina per la salvezza vostra e del prossimo la santa eucaristia sarà un giorno dissacrata a queste le profezie dicono e non più creduta la presenza reale di mio figlio e false ideologie e false teologie purtroppo la famosa protestantizzazione della situazione però ripeto quello che conta è quello che dice ovviamente il signore gesù la santa chiesa cattolica è l'unico vile l'unico ovile per la salvezza di ognuno di noi è cristo che porta la salvezza la chiesa santa cattolica è di cristo e quindi è logico che la santa chiesa cattolica essendo di cristo è l'unico luogo per salvarsi questo è il punto fondamentale l'eocomunismo fino a un certo punto perché quello che conta ripete la santa chiesa cattolica unità dei cristiani nella santa chiesa cattolica non si può dire si fa l'unità dei cristiani e poi ognuno rimane di per sé no o si confluisce nella santa chiesa cattolica oppure ognuno farà le sue dovute pensieri e e ovviamente le tue solute delucidazioni un messaggio per esempio che non avevo non avevamo mai letto insieme a quello di gruscevo in ucraina aprile 1988 sette anni dopo l'inizio di mezzucori e dice questo è per tramite vostro e del sangue dei martiri che avverrà la conversione della russia il muro di berlino cade il 9 novembre dell'anno dopo se pensate bene e però vedi che dite che dice è per tramite vostro il sangue dei martiri che avverrà la conversione della russia pentitevi amatevi gli uni gli altri stanno per arrivare i tempi che sono stati preannunciati quelli della fine del tempo non della fine del mondo ma della fine dei tempi della fine di questo tempo insegnata bambini a pregare insegnate loro a vivere nella verità e vivere voi stessi nella verità di del santo rosario e l'arma contro satana sono venuta a confortarmi e a dirvi che le vostre sofferenze ben presto finiranno e dice questo io vi proteggerò per la gloria il futuro del regno di dio sulla terra che durerà mille anni il regno del cielo e della terra è a portato di mano il dio eterno vi chiama ecco perché sono stato mandato a voi e dice anche nonostante le lunghe persecuzioni che avete subito non avete perduto la fede la speranza e la carità sono venuto a confortarvi a dirvi che le vostre sofferenze presto finiranno io vi proteggerò per la gloria il futuro del regno di dio sulla terra che durerà mille anni e questo diciamo era durante lì in ucraina l'ex unione sovietica parla proprio di questo mille anni di questo regno di dio di mille anni la vergine maria dice questa cosa qui ne parleremo in una puntata a parte di questo millennio diciamo però ne parla anche e la vergine maria lì in in ucraina diciamo che è ancora diciamo in stato di la santa chiesa sta diciamo ancora valutando tutta questa anche di questi messaggi ovviamente e come dicevo oltre la guerra spirituale come abbiamo capito ci sarà anche una vera e propria guerra mondiale nucleare una terza guerra mondiale e andiamo alla madonna del pino e andiamo a vedere che in alcuni in alcuni messaggi si parla proprio di questo come già dice gesù nel vangelo prima del suo ritorno ci saranno popoli contro popoli disastri forti ovviamente in tutto il mondo e dice questo avola 7 ottobre 2000 dice la vergine maria la terza guerra mondiale comincerà tra poco guarda la palestina israele la giordania di là partirà dall'oriente fate caso a quello che sta succedendo ovviamente in siria e in tutto come come si si vede che israele è tutto circondato da eserciti come poi c'è scritto nella santa bibbia andiamo avanti un altro messaggio che riguarda questo dice anche questo avola 24 novembre del 2002 sappiano i teologi moderni sappiano i vescovi sacerdoti credenti tutti veri e falsi sappia la santa chiesa cattolica apostolica romana sappiate voi tutti uomini di tutto il mondo voi che gridate la pace mentre affilate le armi pronti per la guerra se fate così si verificherà il messaggio di fatima e tutte le sacre scritture quello che già vi avevo già detto precedentemente ovvero che accadrà quello che poi è scritto nelle sacre scritture altro messaggio 24 dicembre del 2002 e dice questo il signore gesù grande rivoluzione si scadeneranno sulle nazioni del mondo pochissimi saranno salvati nella purificazione finale una grande guerra si abbatterà sugli uomini per le tante offese fatte a dio guardate a venezuela quello che sta succedendo e questo è quello che sta effettivamente avvenendo andiamo a leggere un altro messaggio 23 febbraio del 2003 anche in questo caso la vergine maria qui dice molti leader politici incoraggiano la guerra altri costruiscono armi sofisticate per uccidere o governanti con la guerra non raggiungete nulla ovunque girerete lo sguardo non troverete altro che la desolazione e distruzione morte fame miseria invidere di morti così dissi a fatima perché sarà la terza guerra mondiale e nucleare o governanti non avrete mai avrete mai la pace con la guerra se la pace non diventa la vostra è l'unica risposta che potete dare al mondo questo è quello che si sta poi prefigurando fondamentalmente ovviamente il santo rosario è uno dei modi per poterle a diciamo alleviare tutta questa cosa 25 marzo del 2010 dice anche questo la vergine maria dice dopo la grande battaglia contro colui che agisce che fomenterà la terza guerra mondiale il castigo sarà esigo il numero dei salvati e san michael arcangelo dice anche se non pregate fare presidenza vi sarà una grande guerra di un'ampiezza tale che senza l'intervento del padre ovviamente di dio padre onnipotente pochi resisterebbero ad abitare sulla terra l'uomo ha creato gli strumenti per la distruzione per amore del guadagno e per la sua potenza tra poco impurerà una lotta ascoltate una lotta che non solo vi sarà una grande guerra quello che dicevamo con le armi nucleari ma anche una guerra religiosa la guerra contro l'anticristo quindi una guerra pesante spirituale e anche materiale vera e proprio una cosa veramente incredibile che purtroppo non viene poi purtroppo creduto un altro messaggio che del 4 di novembre del 2011 dice il signore gesù i governanti con la loro legge entreranno nelle vostre case sono gli stessi uomini che hanno provocato grandi rivolte e guerre fraticide con le promesse facili interessi preparano i mezzi più raffinati di morte perché l'umanità è condotta sulla strada dell'odio e prepara le armi nucleari per la distruzione come abbiamo sentito questi sono purtroppo situazioni che come c'è scritto anche nel vangelo si sta verificando prima del ritorno del signore ci si può credere o non ci si può credere questo non è non spetta ovviamente a me deciderlo o meno ma la parola di dio sulle sacre scritture parla chiaro messaggi che arrivano da dio parlano chiaro ognuno di noi dovrà fare una scelta di campo o con cristo o contro cristo questo è quello che si sta diciamo verificando io intanto vi ringrazio per l'attenzione vi dio vi benedica vi ringrazio per le vostre iscrizioni al nostro canale iscrivetevi diffondete la parola di dio il santo vangelo andate alla santa messa fate quello che il signore ha sempre detto senza dire nulla a nessuno ma che solo dio vi veda iscrivetevi continuate a diffondere anche questi messaggi e questi video che sia fatta comunque la volontà di nostro signore è Gesù Cristo la gloria è solo a lui e preghiamo per la santa chiesa preghiamo per i due papi ancora viventi e preghiamo per le anime del purgatorio e per le persone che sono lontane dall'ovile santo che è la santa chiesa cattolica io vi auguro una buona giornata e dio vi benedica e alla prossima puntata io vi auguro una buona giornata io vi auguro una buona giornata